Pulizia fai da te con piccoli gruppi familiari, in coppia o in solitaria. E questa è la filosofia del self-tour plastic free, la nuova formula del WWF per salvaguardare le nostre spiagge. Se il rischio Covid scoraggia eventi di gruppo, il self-tour diventa un modo semplice ed efficace e adatto a tutti. Ci si potrà concentrare ad esempio su quei minuscoli frammenti di plastica quasi invisibili tra la sabbia e i ciottoli, oppure scovare rifiuti in angoli nascosti, magari raggiungibili in canoa o in pedalò. Per lanciare il nuovo progetto, il WWF attiverà tutti i canali social. Per esempio, verrà creata una community su Facebook dove sarà possibile condividere informazioni ed esperienze che a fine anno saranno raccolte in un grande album collettivo di immagini delle singole iniziative. Tra gli strumenti a disposizione dei volontari c'è un vademecum per realizzare una pulizia in piena regola. Il self-tour Plastic Free sarà proposto anche agli ospiti di tutti gli stabilimenti aderenti al circuito Lidi Amici dei Parchi, con l'esposizione di poster all'ingresso che invitano i bagnanti a dedicare un po' del proprio tempo all'ambiente. Intanto il WWF ha pubblicato un'altra puntata del report Plastica, una storia infinita. L'argomento di questo nuovo capitolo riguarda le micro e le nanoplastiche, presenti in quantità enormi nel nostro mare. Dal rapporto emerge come questi elementi contaminanti sono persino dentro di noi, nel sangue, nelle urine, ma anche nel latte materno e nel liquido amniotico.